Oggi, nella maggior parte dei casi, i metodi tradizionali quali questionarii di intervista non sono sufficienti per monitorare i comportamenti e le scelte in materia di salute. Affinché la comunicazione possa essere efficace e dal tempo stesso rispettosa degli interlocutori, possono essere adottate metodologie innovative. Nell'ambito della cosiddetta social network analysis, i dati del web, intesi come i testi pubblicati online dagli utenti, rappresentano un patrimonio di informazioni utile ad individuare aree che necessitino di particolare attenzione ed ascolto da parte dei professionisti della sanità. Il sentiment espresso in rete può influenzare fortemente le decisioni individuali e può portare ad un vero e proprio contagio delle opinioni. Esiste la prova formale che gli stati emotivi, positivi e negativi, si comportino come le malattie infettive, diffondendosi nelle proprie reti di comunicazione sociali per lunghi periodi di tempo. Per questo, quindi, è possibile anche applicare modelli di contagio biologico al sentiment delle comunicazioni social. Tale consapevolezza potrà favorire iniziative di sensibilizzazione targettizzate su specifici canali social. Le nostre analisi possono fornire appunto informazioni finalizzate a pianificare efficaci strategie di comunicazione digitale. Ad esempio, è possibile individuare delle piazze digitali, come pagine social network o specifici blog, in cui il sentiment acquista una specifica prevalenza. Al tempo stesso, è possibile individuare determinate regioni geografiche rispetto a cui, una volta che sia stata riscontrata la prevalenza di un specifico sentiment, si decida di intervenire. In questo modo sarà possibile ristabilire quei normali equilibri comunicativi, talvolta esesperati dalle fake news. D'altra parte, è comprovato pure in letteratura che esiste una forte correlazione tra il sentiment espresso online e i tassi di vaccinazione stimata per area geografica analizzata.